venditalia 2022 continua siamo al stand di moac la torrefazione ragusana che esordisce nel settore della distribuzione automatica a venditalia in questa edizione 2022 e ci troviamo in compagnia di francesco minerba il responsabile marketing e commerciale dell'azienda francesco bentornato grazie fabio ben ritrovato sono felice di essere a venditalia per questa prima volta di moac nel settore ocs vending ecco dobbiamo essere un tantino ancora più specifici e chiari moac aveva già una sezione dedicata all'ocs ma con cialde delle capsule in modo generalista e offerto anche ad alcuni gestori che gradivano il prodotto poi due anni fa anche con il tuo avvento avete preparato un progetto un progetto davvero estremamente mirato e dedicato ai gestori italiani finalmente possiamo raccontarlo in video certo è proprio così dalle cialde che sono storicamente presenti nel nostro portafoglio ci presentiamo questa volta con un prodotto un progetto interamente dedicato al settore ocs vending che sarà distribuito in esclusiva da tramite società di gestione è un prodotto innovativo per tanti aspetti intanto perché si parte esclusivamente con una capsula green compostabile una capsula che è disponibile in due formati diversi ma che è erogabile dalla stessa macchina quindi questo è il brevetto che noi aggiungiamo in questo settore le macchine sono di nuova generazione arricchite con un touch screen una tecnologia interna brevettata un bluetooth integrato nelle macchine che permette il controllo del parco macchine sul territorio in maniera precisa e puntuale perché moac offre al gestore anche la possibilità di controllare le macchine tramite una piattaforma di telemetria realizzata esclusivamente per questo settore quindi la nostra prima volta ma pensiamo di essere presenti con delle novità importanti un prodotto che non è soltanto caffè ma si arricchisce anche di altre bevande quindi alle cinque referenze caffè che noi abbiamo con i nostri nomi musicali che vanno dalla jazz al rock al soul fino a passare dal funk e dal decaffeinato classic a queste cinque referenze caffè ne aggiungiamo ben dieci di altre bevande calde cinque con prodotti naturali quindi tutti i tè in foglia il tè verde il tè al limone i frutti rossi la tisana relax lo zenzero e limone e poi cinque classici diciamo della dei solubili ginseng l'orzo il nocciolino la cioccolata e il cappuccino il doppio formato della capsula ci consente di utilizzare la capsula più grande per mettere un maggior peso di prodotti solubili soprattutto per il cappuccino e la cioccolata e la capsula piccola invece ci consente di realizzare tantissime bevande tutte naturali quindi siamo qui con un prodotto pensiamo completo stiamo in questo momento realizzando la produzione avviando la produzione stiamo campionando tutte le macchine e tutte le referenze a chi sono ai gestori che sono interessati siamo qui per crearci il nostro la nostra rete distributiva partiamo da zero ma vogliamo siamo ambiziosi abbiamo prospettive interessanti perché già in questi primi giorni di fiera i contatti sono numerosi e sono tutti in attesa di queste di queste novità moac io ho fatto in modo da non interromperti perché hai preso perfettamente il filo del discorso che io credo tu abbia molto ben chiaro dentro di te perché in realtà voi avete strutturato un progetto su misura per i gestori e dunque devo chiederti tu mi hai appena detto che sono molte le richieste tante sono state le visite in questi giorni allo stand moac a venditalia ma a che punto è la calibratura del numero di gestori che dovrete andare a selezionare per dare una micro esclusiva di area noi puntiamo ad avere almeno 50 distributori in italia siamo già ad oltre 30 contatti quindi pensiamo di raggiungere l'obiettivo già già in fiera abbiamo anche delle altre novità che ci consentono di arrivare in maniera celere al mercato dei distributori perché oltre al sistema chiuso noi abbiamo una linea di prodotti in grani dedicata al settore del vending con due miscele studiate apposta per i distributori automatici e poi presentiamo anche delle compatibili con un sistema che si chiama mps yes che già ben presente nel mercato cs e a fronte di una richiesta del mercato di questi prodotti moac si è attrezzata per produrre anche questo formato proprio per accelerare l'ingresso nel settore con un sistema già diffuso e distribuito beh insomma siete davvero attivi su tutti i fronti complimenti complimenti per averla pensata così bene e in modo assolutamente completo francesco per tutti coloro che sono dall'altra parte e presi dalla curiosità quantomeno vogliono avere maggiori informazioni rispetto al vostro progetto e richiederle attraverso un indirizzo email a chi possono scrivere tramite il sito di caffè moac ci sono c'è la pagina dedicata ai contatti quindi saranno immediatamente contattati dai dei nostri agenti per per dare tutte le delucidazioni e inviare già la campionatura perché siamo talmente avanti con con la produzione che ormai non ci resta che andare in giro a vendere il prodotto bene grazie per la collaborazione amici allora io mi fermo per un buon caffè moac ogni tanto un caffè giusto ci vuole e poi proseguiamo per altre novità tra le tantissime presentate qui a venditalia 2022 francesco grazie per la preziosa collaborazione grazie a voi a presto grazie a voi